Sicuramente un po' di fortuna, perché noi siamo andati vicini al gol svariate volte, il palo, a volte siamo stati un po' con Bernardotta, alla fine una parata del portiere, quindi oggi credo che sia mancata solo un po' di fortuna, perché abbiamo creato veramente tanto, tante occasioni e ci è andata male, speriamo che nelle prossime partite quelli che non sono entrati oggi entreranno. Sicuramente avevo calciato forse troppo bene, l'ho presa piena e è andata sul palo, poi ho avuto un'occasione di testa su un assist di rosso e oggi sono stato un po' sfortunato, però sono contento che le occasioni arrivino, perché vuol dire che sono sempre nel vivo, quindi io devo continuare così e la prossima volta sicuramente andrà meglio. Sicuramente è un pareggio che però ci lascia un po' di amaro in bocca, per quello che abbiamo creato, perché era una partita fondamentale, noi volevamo i tre punti, come sempre, oggi abbiamo creato veramente tante occasioni, quindi c'è un po' di amaro in bocca. No, sicuramente oggi per noi era uno sconto diretto, come sono con Ponte d'Era e Carrarese, i prossimi due incontri, quindi noi anche se siamo in trasferta cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco, quindi andremo là per i tre punti, perché sono troppo importanti per la classifica, quindi oggi sicuramente c'era una fornice di pubblico importante che ci aiuta, fuori casa ce ne sarà un po' meno, però noi comunque cerchiamo di imporre il nostro gioco e cercare i tre punti. Sicuramente, come ti ho detto prima, un po' di amaro in bocca per il risultato c'è, però comunque questo risultato ti fa capire che non molliamo mai, siamo una squadra sempre unita, che anche se andiamo sotto cerchiamo sempre di recuperarla, alla fine ci hanno annullato un gol più fuori gioco, quindi si poteva anche andare addirittura in vantaggio, però noi comunque ci siamo sempre sul campo e non molliamo. No, le scelte del Mist, tra l'altro poi ha sostituito Vito con Billicea che ha fatto gol, quindi no, io stavo bene, potevo continuare, però il Mist ha scelto così ed è giusto che faccia le sue scelte, io sono sempre disponibile a fare 90 minuti o uscire. Sicuramente sono i quarti di finale, quindi è una partita veramente importante e se si va avanti in Coppa Italia non si sa mai, se si dovesse vincere ti proietta in cose importanti, quindi noi siamo fiduciosi e mettiamo tutto, non pensiamo che sia una partita di Coppa, la valutiamo come le altre partite e cerchiamo di dare il 100% anche mercoledì a tutti.